Non piove da oltre 80 giorni e questo sicuramente non aiuta sia il comparto agrumicolo che già vive difficoltà notevoli dovute anche ad altri fattori dei quali magari parleremo più avanti. Non aiuta i seminativi, non aiuta tutte le colture cerealicole che sicuramente si trovano in uno stato difficile perché devono cercare adesso di crescere per arrivare alle temperature più calde, quindi sicuramente il momento non è dei migliori. Il nostro non è un lavoro che si può delocalizzare all'estero come molti altri, il nostro è un lavoro che si fa nella propria terra guardando con un occhio il futuro ma non tralasciando la nostra tradizione. È una politica spesso assente da quelle che sono le nostre problematiche, da quelle che sono anche gli accordi che vengono fatti non curanti del danno che fanno, poi genera questa grandissima crisi.